Non solo è stato detto, ma è stato scritto da alcuni familiari delle vittime io non ho odiato i tedeschi, ma ho odiato i partigiani. Questa qui è un'affermazione molto forte, che vuol dire che effettivamente secondo questi familiari delle vittime la colpa della strage di Civitella era debitabile ai partigiani. Per tanti anni la strage è per mano nazifascista di Civitella, nell'Aretino, che portò all'uccisione di 244 civili tra Civitella, Cornia e San Pancrazio è stata contraddistinta da una memoria divisa. La colpa veniva attribuita alla banda partigiana Renzino, ma ciò non restituiva verità e dignità a chi aveva perso la vita in quel massacro. Il 18 giugno del 1944 il comandante Renzino insieme ad altri partigiani entra in un dopolavoro lì di Civitella dove c'erano quattro tedeschi che giocavano a carte e bevevano. In quell'occasione c'è stata l'uccisione di due tedeschi, un terzo è stato ferito che è morto i giorni seguenti e il quarto invece è riuscito a salvarsi. Ecco, dopo è stato pensato che questo fosse l'elemento scatenante di questa rappresaglia. In realtà le rappresaglie tedesche avvenivano entro le 24 massimo 48 ore. A Civitella sono passati 11 giorni. Grazie al processo di La Spezia ed una ricostruzione fatta di documenti e testimonianze che Santino Gallorini raccoglie e pubblica nel suo libro La memoria riunita, il partigiano Renzino e Civitella tra bugie, silenzi e verità. Oggi quella memoria non è più divisa. Quando è stato presentato il mio libro La memoria riunita la signora Ida Balò, presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime e Edoardo Succhielli, il comandante partigiano Renzino si sono abbracciati, si sono baciati perché praticamente condividevano quello che io avevo scritto nel mio libro e per cui hanno spento i rancori che avevano diviso per tutti questi anni la memoria. Quella di Civitella fu una vera e propria azione militare voluta dalla divisione Hermann Göring per liberare dai partigiani il territorio dove di lì a pochi giorni si sarebbero attestati i soldati tedeschi. La mattina del 23 il comando tedesco ordina un attacco al comando partigiano di Montaltuzzo e pare che siano stati 200 tedeschi e in quell'azione che dura dalle 8 fino verso le 14 ci furono parecchi tedeschi feriti, qualche tedesco morto ma neanche un partigiano catturato ucciso o ferito per cui è chiaro che per i tedeschi la banda partigiana era numerosissima e la banda Renzino non ha mai superato le 100 unità ma sicuramente i tedeschi pensavano che fossero centinaia di partigiani e questo si vede anche da alcuni documenti. Poi c'è un documento importante ritrovato dallo storico Carlo Gentile consulente del Tribunale Militare della Spezia all'archivio della Wehrmacht a Friburgo e in questo documento si vede che c'è un'area circoscritta che comprende Civitella, Cornia, San Pancrazio, Gebbia tutta la zona della strage e questa zona è etichettata zona di bande poi sotto c'è un piccolo appunto dove c'è scritto bonificata il 29 di giugno ecco praticamente quella è la strage del 29 giugno per i tedeschi non è altro che una bonifica dell'area dalla banda partigiana per quale motivo devono bonificare quest'area? La devono bonificare perché i tedeschi di lì a poco si dovranno attestare in quella che sarà definita la Arezzo Line che è una linea di difesa diciamo a valle della linea gotica che ancora non è pronta per ritardare l'avanzata degli alleati e questa linea Arezzo Line passa proprio per Civitella, San Pancrazio per cui i tedeschi non possono attestarsi lì e combattere contro gli alleati che vengono da sud e avere alle loro spalle una banda partigiana che loro credono che sia numerosissima praticamente sono quelle stragi che hanno colpito la popolazione durante le ultime fasi dell'occupazione tedesca perché poi di lì a poco i tedeschi si attesteranno sulla linea gotica e qui ad Arezzo ce ne sono state tante di stragi Civitella è quella più importante come numero di morte e di vittime ma ricordiamo che vicino ad Arezzo San Polo la Fontaccia, il Molinaccio, Partina, Vallucciole, Castelnuovo dei Sabbioni, Cavriglia, Falsano nel Cortonese e altre più piccole con poche decine di morti ma comunque sia sempre stragi che hanno connotato quel periodo tragico della nostra storia.